Il suo lavoro è un po' di rischio e 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 un po' di rischio che si vede che si è reso conto di aver esagerato e che ha messo a rischio tutta la missione e infatti dice io non lo scrozzo perché ho raggiunto un grado di resilienza nei suoi confronti che le ancelle di Handmaid's Tale mi spicciano caso ormai e quindi mi ripeto per tutto il tragetto e vabbè ragazzi è andato a cosa io l'ho ripetato 4 volte non può passare altra cosa 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 stavo cercando film una serie qualcosa su netflix ma mi pare che avevo già visto tutto ma non è possibile c'è tutto audiovisivo del mondo 800 milioni di film non è vero simile che ho visto tutto spendi un viaggio preglontando le tue non vedo che ci sono tanti film che sono film di merda prima perché poi ti fanno più lavorare e secondo perché che ti pensi che questa monenza che fai a te è meglio scuota qui se fosse una merda tutto morto una merda io l'ho quasi tutta già vista poi c'è stanno un paio di cose che mi volevo dire perché ne parlavano tutti qualche mese fa e volevo stare sul pezzo nelle conversazioni ora già passano tutti di loro perché questo era hace sei mesi però già se mi hanno quittato le tue mi sento come guardo da Vinci che va a casa a dire guarda 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 io credo che ho trovato un modo da fare possibile che le macchine volano in il cielo e loro diranno questo è buono dai che noi stiamo a capire come costruire una rampa di lancio sulla luna per sfruttare la gravità e mandare lo shuttle sul mare e poi se viene la signora che ti dà le goccette un giorno però loro si lasciano più davvero del solito di ramma lacrime mugo devastazione Alice serio? è struga in nozze se mi fai da casa in te e mi hai scendere la mia mano con il mio sei una porco due chiamo al 118 dico che ti stai a coppia con secchio la monnezza fuori dal parco dell'acqua e tutti me invento qualsiasi cazzata ma quanto è vero idiota faccio fare tre mesi in comunità no te lo furo sia capo pure se fate pace pure se lo ami pure se ti via sotto casa con 450 roserosse e ti canta perdono di Tiziano Ferro tu gli devi di che sei capo che sei capo Io per farmi forza chiedere all'armadillo. Oh, ma vieni pure te, non siamo tanto un'oretta e poi torniamo. E lui mi risponde... Ah, sì, te raggiungo quel cazzo. Grazie a tutti.